salve benvenuti o bentornati sono andrea in questo video nuove informazioni utili spero lo siano per voi utili sul mondo dei bottoni a pressione in plastica c'è un modo semplice sicuro per staccare i bottoni di plastica e quando dico sicuro intendo dire che è possibile farlo senza rovinare il materiale sul quale sono stati applicati in commercio esistono degli accessori che si possono considerare dei punzoni a tutti gli effetti anche se di fatto non servono per applicare o fare ma per togliere qualcosa i punzoni di cui sto parlando vengono venduti dalla prim un'azienda tedesca specializzata in articoli per merceria e che dunque tratta prodotti come filo per cucito cerniere bottoni minuteria metallica e tanto altro l'articolo che vi mostrerò nel dettaglio è questo si tratta del removing kit è composto da quattro pezzi un elemento in gomma trasparente e tre elementi di metallo dietro le istruzioni per usare correttamente i punzoni se guardiamo di nuovo con attenzione la confezione vediamo che c'è l'indicazione per diametri di 9 e 12,4 mm prim ha a catalogo infatti due misure i bottoni color snaps mini da 9 mm e i color snaps da 12,4 mm 12,4 mm è una misura prossima ai bottoni t5 che si avvicinano ai 12 mm mentre i t3 quelli più piccoli misurano 11 mm circa e non 9 poi ci sono i t8 i più grandi con diametro di quasi 14 mm stando alle indicazioni quindi i punzoni dovrebbero riuscire a staccare i bottoni t3 t5 ma non i t8 comunque poi vedremo tutto nel dettaglio su che pinza si montano questi punzoni sulla crelando no per usare questo kit serve una pinza diversa che vende la prim e si chiama vario del resto se osservate con attenzione i punzoni o le due pinze lo vedete subito la pinza vario ha due alloggiamenti identici a semplice incastro e senza filettatura mentre la crelando ha due alloggiamenti diversi uno dei quali dotato di filettatura ci vuole quindi poco per capire che il set prim non è compatibile con la pinza crelando questa che ho io però non è proprio una pinza vario è una pinza lux comprata da hobby diversi anni fa ed è in tutto e per tutto identica ad una vario se vicino casa avete un negozio hobby potete farci un salto per vedere se la trovate e se costa meno dell'avario compratela l'ho cercata sul sito hobby ma a quanto pare non è più disponibile però chissà forse nei negozi fisici c'è ancora inutile dirlo anche l'avario proprio come la crelando e la pinza pistone è una pinza universale con i punzoni adatti può applicare tante cose diverse i punzoni per la rimozione dei bottoni in plastica si trovano anche sul sito della cam lo si vede in questa pagina dove sono indicati con il termine remove inoltre c'è un video su youtube creato dalla stessa azienda che mostra come utilizzarli e ora una brutta notizia so per certo almeno sono sicuro al 98 per cento che i punzoni della cam non sono compatibili con la pinza crelando adesso posso dirlo perché ho trovato tempo fa su ebay una pinza cam z y t professionale è un venditore così attento e scrupoloso tanto da riportare nelle immagini dell'articolo i diametri delle pinze e dei punzoni con questa informazione alla mano e le dovute misurazioni sulla crelando posso affermare con una certa sicurezza che le due pinze e quindi anche i rispettivi punzoni non sono compatibili adesso vediamo in dettaglio come si usano i punzoni prim per rimuovere i bottoni le istruzioni riportate sulla confezione dicono che per rimuovere il bottone serve il punzone con la parte in gomma da abbinare uno dei due punzoni metallici a seconda che si abbia a che fare con la coppia maschio o femmina maschio e femmina dei bottoni hanno di fatto profili diversi il maschio si riconosce facilmente perché ha la parte centrale più piccola e più sporgente come vedete ciascun punzone si adatta alla parte che gli compete questo è l'unico aspetto a cui bisogna prestare attenzione per usare correttamente i punzoni comincio con la coppia femmina perciò devo prendere il punzone metallico con il diametro più piccolo la pinza vario è estremamente facile da usare perché gli alloggiamenti per i punzoni sono identici quindi non serve perdere tempo a capire quale va sotto e quale va sopra anche se semplicemente inseriti i punzoni non cadono dalla pinza se rovesciata cominciamo dai t5 ho applicato un bottone completo su questo pezzo di plastica con le istruzioni a portata di mano vediamo come posizionare correttamente i punzoni sulle parti da staccare il punzone metallico va sulla femmina mentre quello con la gomma trasparente va sulla testa adesso bisogna serrare la pinza con una certa forza e stringere fino a quando non sentiamo il rumore che ci fa capire di essere riusciti nell'operazione se guardiamo il risultato ne intendiamo il principio il perno metallico centrale del punzone con la gomma sfonda letteralmente la testa provocando il distacco del gambo e quindi la separazione delle due parti cambio il punzone per completare il lavoro e togliere la coppia maschio rimasta come già fatto prima appoggio la testa sul punzone con la parte in gomma e faccio entrare nel punzone metallico il maschio serro la pinza e stringo fino a quando non sento il rumore di rottura se osserviamo il pezzo di plastica dopo aver rimosso completamente il bottone notiamo innanzitutto che i fori adesso sono più grandi infatti io avevo fatto i fori con un punteruolo grandi appena per farci passare il gambo delle teste inoltre si vedono anche i segni circolari lasciati dai bottoni tutto questo però non è un problema perché se mettiamo un nuovo bottone questo coprirà ogni difetto passiamo adesso ai bottoni t3 innanzitutto vediamo se sono compatibili con i punzoni io ad intuito avrei detto di sì e invece mi sbagliavo il punzone per la femmina non riesce ad entrare mentre per il punzone maschio non ci sono problemi siccome però il punzone maschio entra anche nella femmina ovviamente nella sua parte esterna e non interna proverò a togliere entrambi i pezzi con il solo punzone maschio per togliere il bottone t3 ho fatto un po di fatica come vedete ho stretto la pinza più volte prima di riuscire probabilmente l'inserimento sia del maschio che della femmina nel punzone non è perfetto come nel t5 si crea un po di gioco che rende la centratura non immediata e precisa ma basta tentare più volte magari votando il pezzo e alla fine con la giusta insistenza si arriva risultato alla fine credo che basta farci un po la mano concludo con i bottoni t8 anche in questo caso verifico prima la compatibilità parto con il punzone maschio non riesce a entrare sul pezzo che gli compete mentre il punzone per la femmina entra piuttosto bene e non ha nemmeno molto gioco allora a questo punto tento il trucchetto fatto con il bottone t3 e vedo se il punzone per la femmina si può adattare al maschio purtroppo no niente da fare con i punzoni prim dunque possiamo nel t8 staccare la coppia testa femmina ma non la coppia testa maschio con queste prove sul campo si è visto che i punzoni della prim vanno benissimo per i bottoni t5 per i t3 bisogna impratichirsi un po alla fine funzionano mentre non sono compatibili con i bottoni t8 per chi è interessato sotto in descrizione trova il link alla pinza vario e al removing kit della prim vi saluto e vi aspetto per il prossimo tutorial venite numerosi